da venerdì 28 a domenica 30 settembre a pie ad asti si svolge la diciannovesima edizione della fiera regionale la zucca delle meraviglie venerdì apericena nel palazzucca con il meglio del monferrato aglietato dalla musica di diego and his harmonies sabato cena campagnola 10 euro defile di moda e concerto di sturia lavandini domenica mattina la camminata la fiera con il mercato a 360 gradi l'esposizione e la pesa delle zucche più grandi dalle 12 e 30 la zucca d'eco di piea protagonista nel pranzo su prenotazione o al self service le canzoni della tradizione popolare con le mondine dalle 15 e per tutta la giornata spettacoli itineranti con attrazioni per piccoli e grandi servizio navetta